Siamo sempre convinti di presentare la sfiducia al sindaco a Corinti, adesso c'è una piccola provocazione anche sul rimborso Kinder. La sfiducia o si fa entro febbraio o non si può fare più, perché gli ultimi mesi non si fa per legge, dopo non si può fare perché se non si vota ad aprire, a maggio, giugno, non si può tenere la città con un commissario. Renneremo un danno enorme ai cittadini, per cui entro febbraio, bisogna mettere le firme adesso, se no non c'è più nessuna possibilità. Trascorso il mese di febbraio non si potrà fare più. Per quanto riguarda i Kinder, entra nell'ottica di questo sindaco utilizzare le somme dei cittadini messinesi per comprarsi delle cose che è veramente già vergognoso conservarsi lo scontrino. Comprare un Kinder di 1,20 euro e conservarsi lo scontrino per farselo rimbossare dal comune è una cosa che io non comprendo veramente. Io mi vergognerei. Lasciamo stare se comprate il trancio pistacchioso, va bene, che è una cosa frutturistica, ma farseli rimbossare un Kinder, le caramelle colie, il caffè, ma poi prende cioccolate, bonbon, continuamente a spese dei cittadini. Io questo non l'ammetto, è una cosa vergognosa. Come procederete dunque con la sfiducia? No, noi stiamo contattando alcuni per vedere se ci sono altre firme. Logicamente la mancata archiviazione di Gettonopoli ha arrestato quel processo che già era partito. Dunque qualcuno ritiene che prima si deve chiudere la vicenda, che ci sarà il 25 gennaio e poi si vedrà.